Allora, bella gente, ben trovati, mi chiamo Mauro, arrivederci a Milano e mi chiedo anche per preparare una roba che l'è una meraviglia, il risotto giallo con il por e il formai. Allora, per fare il nostro risotto abbiamo bisogno di formaggi di crema Bel Paese, un po' di farina, il nostro risotto, il riso per fare il risotto, il por, il scaloglio e il safran perché se no il risotto già ha un po' di mia falla, un buter e poi abbiamo messo una roba che è una buona, gli articcioc. Allora, abbiamo un po' di buter, abbiamo messo nella padella, aspettiamo che sia pronto. Quando il buter comincia a essere pronta, guarda qui, oh, l'è una meraviglia, una meraviglia, c'è la nostra verdura, ovvero il scaloglio e il por e abbiamo messo nella padella. Cominciamo già a sentire il profumo del nostro scaloglio e del por che l'è nella padella, aspettiamo un momento quando vediamo che il nostro soffritto è quasi pronta, prepariamo il risotto. Ecco, con il riso, appunto come sa, mi ricordo di la mia mamma, la mia diceva, due pugnetti a persona e agire un momento per amalgamare insieme al nostro soffritto il riso e aspettiamo di sentire il cantare. Nel frattempo il nostro brullo è sempre sul fuoco che va, quando sento un cantare il nostro riso, appartiamo a bagnare il riso, perché è importante, perché se no diventa secco, a bagno. E ad un sempre controllare, girare d'azio a d'azio e alla funcione per 12 minuti. Di appassare il nostro, a desto minuti, è sempre per mettere il nostro safran, che darà un colore che è una meraviglia al nostro risotto. Intanto, a smerci il fuoco, perché il risotto non costa più, dobbiamo mantecare il nostro risotto con un po' di butter e naturalmente, per finire, dobbiamo mettere nel nostro risotto il formaggino crema Bel Paese. Una meraviglia. Allora, su riposare il nostro risotto, aggiungiamo un po' di olio, bello caldo, è importante. E che questa variante per il risotto, in quel nostro risotto giallo, aggiungiamo gli articciocchi, ai passati nella farina. Un, due, e anche tre. Sarà la nostra guarnizione per il nostro risotto. Adesso è pronto per andare a cucinare i nostri articciocchi. Guarda il mio risotto giallo con formaggini crema Bel Paese e porra. Grazie. Grazie a tutti.